Salve a tutti operatori e bentornati sulla Rainbow Six Italian Community. A parlarvi è il solito mute. Un po' a sorpresa questo è il secondo video della giornata. Pensavamo di dover attendere un altro po' per avere delle news interessanti da portarvi qui sul canale, ma non è stato così. La Ubisoft infatti ha rilasciato poche ore fa un comunicato riguardante la playlist speciale Mappavilla. Che cos'è questa playlist speciale? Nulla di così complicato, è il semplice pulsante che compare nel menu principale di Rainbow che vi permette di avviare una partita libera all'interno della Mappavilla. Questa possibilità è stata un'introduzione del tutto nuova all'inizio di questa stagione di Operation Parabellum e l'idea è stata molto apprezzata soprattutto nel primo periodo. La Ubisoft si è resa conto che l'attenzione per questo tipo di playlist è andata via via scemando, ovvero il numero di player che startavano partite utilizzando quel pulsante è diminuito notevolmente e proprio per questo motivo hanno deciso di rimuovere questa possibilità a partire da giovedì 21 giugno. Ciò ovviamente non vuol dire che rimuoveranno la mappa da libere o classificate, ci mancherebbe. Semplicemente quel pulsante specifico scomparirà. La rimozione di questa playlist era già ufficiale al momento del rilascio di Operation Parabellum, ma era programmata per l'inizio del mese prossimo. Il motivo che però ha spinto Ubisoft a rimuovere questa funzione che semplicemente era qualcosa in più è l'evidente problema causato invece al matchmaking generale. Avete riscontrato tutti, e ce l'avete segnalato ormai in ogni video, dei lunghissimi tempi di attesa durante la ricerca di una partita, libera classificato o addirittura caccia ai terroristi. Secondo Ubisoft il problema è dovuto proprio a quella playlist speciale. I server si trovavano ripetutamente sotto sforzo tra persone che iniziavano una ricerca e persone che abbandonavano la stessa ricerca. Senza scendere ulteriormente nel dettaglio però è stato anche chiarito che ritroveremo nuovamente questa possibilità poiché alla Ubisoft è piaciuta e soprattutto ai player è piaciuta tantissimo anche nelle prossime stagioni, ma andrà leggermente rivista per non incappare nuovamente in questi problemi col matchmaking. Mi ha fatto piacere inoltre leggere il commento di un utente su Reddit che ha suggerito alla Ubisoft di introdurre anche la possibilità di giocare le mappe che hanno subito un rework all'interno di questa playlist speciale. Ne abbiamo un esempio proprio in questa stagione ovvero Clubhouse, anche perché sapete benissimo che nelle prossime stagioni vedremo per esempio sostanziose modifiche anche a base di Irford e molto probabilmente anche ad altre mappe già presenti in gioco. Il community manager di Ubisoft si è dimostrato attento anche a questa richiesta e l'ha riportato al team di sviluppo. In realtà ho avuto modo di ascoltare un'altra idea molto interessante, però questa volta qui in Italia, più nello specifico nel video di Aluc di poco fa, sempre su questo argomento. La sua proposta a parer mio non è da sottovalutare, ma non voglio farvi spoiler e vi invito anzi a passare dal suo video qualora non l'aveste ancora visto, il link è qui sotto in descrizione. Inoltre questa volta prima di salutarci non ripeterò la solita frase sul like e l'iscrizione al canale, che arrivati a questo punto mi auguro siano spontanei, bensì preferisco invitarvi a recuperare il video pubblicato proprio oggi poveriggio. Ci sono dettagli molto interessanti su Alibi e Maestro, alcune cose di cui probabilmente non avete la benché minima idea. Il video è proprio qui sul lato e vi basta cliccarci. Noi, come al solito, ci vediamo alla prossima.